Ogni giorno le persone che lavorano in Fondazione Mondo Digitale si impegnano per un futuro più inclusivo e connesso. Ma cosa li motiva? Scopriamolo insieme! Sono qui perché voglio essere parte di un cambiamento positivo. Con la Fondazione posso contribuire a costruire una società in cui l'innovazione e la conoscenza sono alla portata di tutti. Qual è l'impatto del mio lavoro? Beh, vedere il sorriso di un anziano che fa la sua prima videochiamata Whatsapp ai nipoti lontani, oppure la soddisfazione di uno studente che programma il primo robot. E questi sono i momenti che mi ricordano che il mio contributo è importante. Credo che la tecnologia sia fondamentale nella vita delle persone. In Fondazione ho l'opportunità di aiutare gli altri ad usufruirne, rendendola uno strumento accessibile a tutti. Ho scelto di lavorare in Fondazione Mundo Digitale perché credo fermamente nel potere delle occasioni. Ogni giorno vedo come il nostro lavoro apre nuove opportunità per chiunque, indipendentemente dal proprio background. Dietro ogni progetto, dietro ogni iniziativa, ci sono persone appassionate e dedite. Con il tuo 5 per 1000 può aiutarci a fare ancora di più. Grazie. Grazie.